La resa dei conti in casa PD sembra scontata e, come in molti promettono, comincerà il 25 settembre, un minuto dopo la chiusura delle urne. L'esclusione di una rappresentanza pratese alle prossime politiche ha trasformato le crepe in voragini. Spaccatura evidentissima nelle stanze di Via Carraia, dove il segretario provinciale pratese Marco Biagioni è bersaglio di critiche molto aspre dopo il caso Squittieri e poco importa che in extremis un nome pratese sia stato infilato da qualche parte. L'ex sindaco di Poggio a Caiano Marco Martini al quarto posto del listino plurinominale dopo la rinuncia di Gianluca Brizzi, segretario del PD di Massa. E poco importa anche l'autodifesa affidata a Facebook, dove ieri in serata Biagioni ha pubblicato un post per dire due cose in particolare. La prima è che il segretario Letta ha imposto una candidatura esterna seppure autorevole, quella dell'economista ex-renziano Tommaso Nannicini. La seconda è che segreteria provinciale, sindaco e rappresentante in direzione nazionale hanno remato uniti per portare in lista almeno una delle cinque figure, tutte condivise parimenti rappresentative del processo di democrazia interna al PD di Prato. Ecco qui il nodo, una rosa di cinque nomi a differenza di quanto fatto da quasi tutte le altre federazioni toscane che di nomi ai vertici nazionali e regionali ne hanno mandato solo uno in segno di compattezza. Ad ogni modo sfumata la candidatura dell'assessore Benedetta Squittieri nella casella del collegio uninominale lasciata vuota dal sottosegretario Caterina Abini, nel PD si pensa alla campagna elettorale senza dimenticare, ma solo rimandando, il chiarimento su quanto accaduto in questi giorni. Il nostro partito, la risposta di Biagioni al fuoco di critiche, è uno dei luoghi in cui si decide per il bene di Prato. Rivendico il percorso di coinvolgimento di tutta la nostra comunità, pienamente consono, nei tempi e nei modi. Appello alla coesione. Adesso, ancora Biagioni, abbiamo bisogno dell'impegno di tutta la nostra comunità in questa campagna elettorale per promuovere la visione di un paese che non lascia indietro nessuno. Basta questo per riportare il Sereno in via Carraia? No, la spaccatura c'è, inutile dire.